è questa che è stretta questa qua che è stretta vedi che arrivi lì sul sasso cazzo è stupida stretta che sta qua sotto quindi per allargarla anche se vai su in alto in alto non è che cambia devi fare il tronco più in alto possibile però sotto ma devi girare subito lì ancora stretto e lo so capito e stretta cazzo per quello che volevo togliere quello lì e anche se va in alto io non riesco a spostare è stupida è stretta è brutta allargala fin quando cazzo vuoi quando arrivi qua sempre stretta è porca trota è solo quella lì stretta quella lì no se vieni fino a qua che la stringi per la di chiudere la cazzo e spero dopo cazzo sei sul sasso eh non giri no poi dai lo giro sempre ce la faccio ce l'ha fatta con quel cadavere colare guarda il filotone che non lo vede il cadavere ha girato no c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va perché chi gira no come cazzo in quattro a girare via non l'ho visto non l'ho visto si no man si no man thank you aspetta il cazzo padre che è un bello che fa incazzare io ho tempo indietro non prendiamo non prendiamo si no non è Sì, sì buongiorno, allora faccio fatica teoricamente è meglio la seconda perché devi andare via lungo se ci passa che bastardo perché prima, se vai in prima devi dargli via forte già sotto, qua vedi, la fai uguale, però devi andare via veloce non arrivare a correre perché poi torna indietro ti hai passato non devo passare, è giù che lo fai guardiamo un gazzetto che cazzo l'ha visto, l'ho visto l'ho visto come Johnny? salta al fatto, buttavanti, alzala oh Johnny voglio vedere devo misurare qua tanto non c'è più niente non c'è più niente in mezzo passo 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 Aspetta! nel chiuderla prima chiusa qua non la quando scendi adesso voglio vedere forse l'ho preso lo stesso forse l'ho ripreso lo stesso chiudiamo prima adesso devo provare a chiuderla prima posso spegnere